Comune e ordini professionali lavoreranno insieme allo sviluppo della città. Nasce a Napoli il CUP, Comitato Unitario delle Professioni, con l'obiettivo di collaborare per migliorare la qualità dei servizi, valorizzare pratiche di cittadinanza attiva e varare decisioni congiunte a sostegno di imprenditori e consumatori. Un luogo in cui l'amministrazione e i rappresentanti di professionisti della nostra città si confrontano per assumere le migliori decisioni possibili nell'interesse della città. Abbiamo dimostrato in questi anni che la collaborazione, la cooperazione, il confronto è il miglior modo per ottimizzare il capitale umano persistente nella nostra città. Lavorare insieme, confrontarsi, utilizzare al meglio le straordinarie risorse professionali e la competenza e la passione che c'è in questa città. Istituito con decreto sindacale, il CUP è stato presentato questa mattina con i rappresentanti di tutti gli ordini professionali ed è un'iniziativa fortemente voluta dall'avvocato Maurizio Detilla, recentemente scomparso. Sono 24 ordini professionali che gratuitamente saranno al fianco dell'amministrazione comunale all'insegna di una vera e propria alleanza istituzionale che mette al centro il cittadino e gli abitanti della nostra città, il bene comune, la cura dei servizi. Siamo orgogliosi di realizzare tutto questo e soprattutto di dedicarlo al fondatore, alla persona che ha voluto questa iniziativa di così alto profilo etico, morale e istituzionale che è l'avvocato Maurizio Detilla. Da d'ora in poi noi lavoreremo anche per lui e con l'istituzione comunale per cercare poi di renderla operativa e non solamente in questo momento celebrativa di un evento che intanto ci soddisfa ma speriamo che soddisfi anche la cittadinanza in maniera compiuta e completa. Questa struttura che racchiude tutte e 25 le professioni ordinistiche è unica nel nostro paese, non c'è un'altra realtà che le racchiude tutti, c'è a livello nazionale il CUP che comprende parte delle professioni come la RPT che è la rete delle professioni tecniche e l'associazione giuridica che raccoglie le professioni giuridiche come notaica, commercialisti e avvocati. Per cui solo a Napoli e per la prima volta in Italia tutte e 25 le professioni ordinistiche sono racchiuse in un'unica anima che è quella del Comitato Unitario delle Professioni.